Faccio anche sei, per dare l'esempio ancora una volta, che il vaccino è sicuro nella misura in cui sono sicuri tutti i medicinali, anche se prendiamo un'aspirina ci può venire uno sciocca anafilattico e ce ne andiamo al creatore. Parlo organizzativamente anche? Organizzativamente ci stiamo già preparando, intanto perché avremo delle scadenze inevitabili. La prima riguarderà il personale sanitario, chi si è vaccinato a gennaio probabilmente avrà difese immunitarie molto più basse già a novembre, quindi noi dobbiamo prepararci a vaccinare di nuovo tutto il personale medico sanitario.